Sabato 20 e domenica 21 ottobre torna sul Diamante di Pian di Poma la terza edizione di Frisbee Yap. Buongiorno a tutti. Questo torneo è il Memorial in onore di Fulvia Pavone, una mia compaia di squadra prematuramente scomparsa e questa attività si rivolge ai giovani. È un torneo giovanile Under-13, quest'anno quattro regioni coinvolte, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e naturalmente Liguria. Sette squadre, tra le quali due che hanno partecipato alle finali nazionali Under-13, perciò molto titolate. Saranno due giornate di gioco, la manifestazione comincerà alle dieci e mezza di sabato, si protrarrà per tutta la giornata, ci saranno tante partite. Alla domenica si riprenderà a giocare, per poi avere le finali nel primo pomeriggio alle 15 e la premiazione del G730. Sarà un'occasione veramente unica, giocheremo in ogni caso tantissimo perché ogni società giocherà ben sette partite e questo è buono perché per migliorare nel gioco bisogna giocare e fare tanta attività. La premiazione sarà come detto prima alle 17 e 30 e vi invito a venire a vedere sia le partite sia la premiazione che sarà veramente un momento di festa per tutte queste società coinvolte. Grazie Grazie Grazie